...e direttore a Roma auspiente, delle ore 6.49, è in avvio a finale 2. Ferma in tutte le stazioni. Attenzione, allontanarsi dalla linea Galla. Cittreno regionale del 1, 9, 2, 3, 3 d'Italia, delle ore 6.49, proveniente da Cittano di Roma, a che in direttore a Roma, che sei tagliosata all'inizio, a Anguscia, allontanarsi dalla linea Galla. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.